L'aeroporto di Milano-Bergamo ospita la seconda edizione del meeting dei responsabili della formazione per i principali aeroporti europei. Sono colleghi che condividono con noi la stessa problematica, ovvero l'applicazione di un regolamento che ha portato a Europea, il regolamento 139 del 2014, che disciplina la certificazione degli aeroporti. Dentro questo regolamento c'è una parte consistente dedicata alla formazione per la sicurezza. È una parte importante, preponderante, vorrei dire, ma non sempre chiara e definita nel dettaglio. Si crea quindi l'esigenza da parte di tutti i colleghi di trovare delle soluzioni comune universalmente applicabili. Ecco perché un anno fa dall'aeroporto di Bruxelles è nata questa splendida iniziativa di creare questo gruppo di lavoro proprio per condividere criteri interpretativi e anche procedure e strumenti. I destinatari di questa formazione sono tutte le persone che operano nella cosiddetta zona airside degli aeroporti, ovvero la zona dove stanno gli aerei. Si tratta, per rendere un'idea, di circa 6.000 persone solo per l'aeroporto di Orio al Serio, quindi un numero veramente consistente. L'oggetto della formazione sono tutte le competenze che devono essere sviluppate finché queste persone si muovano e agiscano in assoluta sicurezza per sé, per gli aeromobili e per i passeggeri.